Patrick Bosco, lo secondo classificato, pensate, oggi era a Monza, ha vinto un concorso, questa sera è arrivato qua, ha detto io ho iniziato a cantare con il luna, poi Paolo e Chiara, e mi è arrivato secondo. Un risultato bello dopo l'altro. È sempre un'emozione cantare. È vero, è vero, poi questa sera tu l'hai fatto con due pezzoni. Sì, prima magari sembrava un ragazzino innocente, poi bam, che hai putto a spell ognuno. Esatto, esatto, infatti il bello suo è che non solo canta, ma lui davvero interpreta in tutti i sensi. Ha una gran bella presenza scenica, ma com'è che l'hai in qualche modo accusita, questa capacità di stare sul palco e sentirti così a tuo agio? Beh, diciamo che all'inizio come tutti avevo una paura proprio da fiffone di salire sul palco, avevo l'ansia, cosa che ti veniva le palpitazioni, però dopo un po', è anche una cosa psicologica, ti devi mettere un po' nel mood, perché alla fine non succede niente di che, anzi non serve andare indietro, indietreggiare, avere paure, invece devi essere un po' più spavato, devi avere un po' le palle quando fai queste cose, devi essere un po'... Shaker. È come Shaker a lui, ragazzi, altro che Paola e Chiara. Grazie mille e complimenti per il tuo secondo posto. È sempre un piacere.